Per me questo corso è stato molto interessante, soprattutto perché sto per finire gli studi e sto per entrare nel mondo del lavoro, quindi penso che potrebbe darmi le basi per iniziare nel modo giusto o comunque per provarci nel modo giusto e un po' fuori dagli schemi. Di Luca Toffoloni penso che sia stato molto diretto, molto chiaro nell'esprimere i contenuti del corso ed è quello di cui io personalmente avevo bisogno, cioè di qualcuno che mi smuovesse un po'. Mi ha fatto vedere le cose da un'ottica diversa da quello per cui sono abituata a pensare. Questo è un corso che consiglierei ad altri.